credo proprio che tu sia pazza mia chiara a voler andare in giro per la campagna con un tempo simile mi pare che da due mesi in qua ti stanno venendo delle strane idee senza tener conto della mia volontà mi porti al mare quando mai da 45 anni che siamo sposati hai avuto capricci del genere scegli di per potenza Feshamp una cittadina malinconica e subito sei presa da una gran frenesia di movimento tu che non ti muovevi mai e vuoi andare a fare una passeggiata in campagna nel giorno più caldo dell'anno dia de preval di accompagnarti lui che fa tutto quello che vuoi tu quanto a me torno in albergo a fare un riposino a questo punto la signora Cadur si rivolse al suo vecchio amico venite con me il depreval l'uomo si chinò con una galanteria ad altri tempi rispose dove andrete voi io verrò allora andate a prendervi un'insolazione dichiarò il signor de Cadur ed entrò all'hotel de Bain per godersi un pisolino di un paio d'ore appena furono soli la vecchia signora e il suo anziano compagno si misero in cammino lei disse a voce bassa stringendogli la mano finalmente finalmente siete pazza mormorò l'amico vi ripeto che siete pazza pensate al rischio che correte se quel uomo lei trasalì vi prego Henri non dite quel uomo quando parlate di lui e va bene seguitò lui bruscamente se nostro figlio sospetta qualche cosa se si sospetta vi avrà e ci avrà in mano sua avete vissuto quarant'anni senza vederlo che cosa va preso oggi avevano percorso la lunga strada che porta dalla spiaggia alla cittadina voltarono a destra per risalire la costa dietro età la strada candida si snodava sotto la pioggia infuocata di sole in quel calore torrido andavano avanti lentamente a passi brevi lei aveva preso l'amico sotto braccio e guardava davanti a sé con occhi fissi carichi di pensieri disse così voi non lo avete più rivisto no mai è possibile cara amica non ricominciamo quell'eterna discussione io ho una moglie e figli come voi avete un marito l'una e l'altra abbiamo dunque da temere dell'opinione della gente lei non rispose pensava alla giovinezza lontana alle cose passate così tristi l'avevano sposata come si sposano le fanciulle non conosceva per nulla il fidanzato un diplomatico e aveva vissuto con lui più tardi la vita di tutte le donne di questo mondo ma ecco che un giovane il signor da Preval come l'ha sposato l'amò con una passione profonda e durante una lunga assenza del signor Decadour partito per le Indie in missione politica lei cedette come avrebbe potuto resistere come avere la forza e il coraggio di non cedere se anche lei lo amava no davvero sarebbe stato troppo difficile come è cattiva e traditrice la vita come parare certi colpi del destino come sottrarsi alla sorte fatale quando c'è donne sole abbandonate senza amore senza figli è possibile sempre sottrarsi a una passione che vi si aderge contro sarebbe come volersi sottrarre alla luce del sole per vivere fino alla morte nel buio come rammentava ora ogni particolare i baci di lui i sorrisi le sue soste sulla porta per vederlo rientrare in casa che giorni felici quelli i suoi soli bei giorni così presto passati poi si avvide che era incinta che angosce oh quel viaggio nel mezzogiorno quel lungo viaggio quelle sofferenze quei terrori incessanti quella vita nascosta nella villetta solitaria sulle rive del mediterraneo nascosta in fondo a un giardino dal quale non osava uscire come ricordava i lunghi giorni trascorsi distesa sotto una pianta d'arancio con gli occhi alzati verso i frutti sanguigni rotondi in mezzo al fogliame verde come avrebbe voluto uscire andare fino al mare in cui fresco soffio le giungeva dall'alto del muro il mare di cui udiva il rumore delle brevi ondate sulla spiaggia e di cui sognava la distesa azzurra lucente di sole con vele bianche e una montagna all'orizzonte ma non osava avarcare la soglia se fosse stata riconosciuta così deformata col ventre greve che attestava la sua colpa e i giorni d'attesa gli ultimi giorni tormentosi le apprezzioni e i dolori minacciosi poi la notte spaventosa quante miserie aveva subita che notte quella non faceva che gemere e gridare vedeva ancora il viso pallido dell'amante che ogni momento le baciava la mano il viso glabro del medico la cuffia bianca dell'infermiera e che tuffo aveva sentito nel cuore alludire a quell'esile gemito di piccino quel miagolio quel primo sforzo di voce umana e il giorno dopo fu l'unico giorno della sua vita in cui aveva visto e baciato suo figlio perché poi non l'aveva mai più neppure potuto intravedere e da allora che interminabile vuota esistenza col sempre fluttuante pensiero del figlio che lei aveva di continuo presente nella forma di quell'esserino partorito da lei l'aveva preso portato via nascosto sapeva soltanto che era stato allevato da contadini normanni che anche egli era divenuto un contadino e che si era sposato sposato bene ed era stato ben provvisto di denaro dal padre del quale ignorava il nome quante volte in quarant'anni lei aveva voluto partire per andare a trovarlo per abbrazzarlo non immaginava che fosse cresciuto pensava sempre a quella larva umana che aveva tenuto un giorno fra le brazza e stretto contro il petto palpitante quante volte aveva detto al suo amico non reggo più voglio vederlo voglio partire sempre lui era riuscito a trattenerla lei non riusciva a contenersi a padroneggiarsi il marito avrebbe indovinato l'avrebbe spiata sarebbe stata allora la fine com'è chiedeva lei non so nemmeno io l'ho più visto ma è possibile avere un figlio e non conoscerlo aver paura di lui averlo ripudiato come una vergogna è orribile camminavano per la strada assai lunga spossati dall'ardore del sole sempre salendo l'interminabile pendio la donna riprese non si direbbe un castigo non ho mai avuto altri figli no non posso più resistere al desiderio di vederlo che mi ossessiona da 40 anni non potete capirle queste cose voi uomini pensate che sono vicinissima a morire e non lo avrei più riveduto mai più è possibile per tutta la mia vita ho pensato a lui che orribile esistenza ho vissuto per questo motivo nemmeno una volta non una volta capite senza che il mio primo pensiero non sia stato per lui in simili casi non si deve aver paura della gente avrei dovuto abbandonare ogni cosa e seguirlo allevarlo amarlo certo sarei stata più felice non ho osato sono stata vile quanto ho sofferto oh queste povere creature abbandonate come debbono diara le loro madri ad un tratto si fermò soffocata dai singhiozzi tutta la valla era deserta e muta sotto la luce abbagliante del giorno soltanto le cavallette facevano udire il loro fruscio secco e continuo nell'erba gialla e rara dei due pendii che davano sulla strada sedetevi un po' disse l'uomo lei si lasciò condurre fino al ciglio del fosso e vi si sedette col viso fra le mani i suoi capelli bianchi acconciati in boccoli ai due lati del viso si scioglievano e lei piangeva stracciata da un dolore profondo l'amico restava in piedi di fronte a lei inquieto senza sapere che dirle morborò su coraggio la signora si rimise in piedi ne avrò disse e asciugandosi gli occhi riprese a camminare con un passo affannato di vecchia la strada si inoltrava un po' più lontano sotto un gruppo di alberi che nascondevano alcune case percepivano ora i colpi vibranti e ritmati di una mazza di fabbro sopra un incudine e di lì a poco videro a destra un carro fermo davanti a una specie di casa bassa e sotto una rimessa due uomini che ferravano un cavallo da Preval si avvicinò il potere di Pier Benedict chiese uno degli uomini gli spose prendete la strada di sinistra proprio di faccia al caffeino e poi continuate dritto e la terza dopo quella di Poré c'è un piccolo abete accanto al cancello non c'è da sbagliare voltarono a sinistra ora la donna camminava pian piano con le gambe che non la reggevano e il cuore che batteva con una tale violenza da schiantarla ad ogni passo mormorava come per una preghiera mio Dio mio Dio oh mio Dio e una commozione terribile le serrava la gola la faceva vacillare sulle gambe come se le avessero reciso le caviglie da Preval nervoso e un po' pallido le disse all'improvviso se non riuscite a padroneggiarvi vi tradirete subito cercate dunque di dominarvi seguivano una di quelle stradine di campagna incassate fra i cortili delle masserie sepolte sotto una duplice fila di faggi allineati lungo i fossati ed un tratto si trovarono di fronte a un cancello protetto da un giovane abete è qui disse da Preval la donna si arrestò di colpo e guardò il cortile piantato a meli era vasto si allargava fino alla casetta coperta di stoppia di fronte la stalla la rimessa il pollaio sotto un tetto di ardese ai carri le carrette e il calesse quattro vitelli passevano l'erba verdissima sotto gli alberi le galline erravano per tutti gli angoli del recinto nessun rumore la porta della casa era aperta ma non si vedeva nessuno entrarono immediatamente un cane nero uscì da un barile rovesciato sotto un gran pero e cominciò ad abbaiare furiosamente allineati contro il muro della casa quattro alveari sopra delle tavole di legno mostravano a chi entrava le loro cupole di paglia davanti all'uscio il signor da preval gridò c'è nessuno comparve una bambina una ragazzina di circa dieci anni vestita con una camicia e una gonnella di lana con le gambe nude e sporche l'aria timida e sorniona rimaneva ritta nel vano della porta come per impedirne l'ingresso che volete disse tuo padre è in casa no dov'è non lo so e tua madre è dalle vacche tornerà presto non lo so la vecchia signora improvvisamente come se avesse temuto che la trascinassero via a forza disse precipitosamente non me ne andrò senza averlo visto aspetteremo cara voltandosi videro venire verso la casa una contadina che portava due secchi di zinco pesanti all'apparenza e che lanciavano a tratti sotto il sole bianchi bagliori accecanti zoppicava con la gamba destra e aveva il petto infagottato in un giacchetto a maglia scuro e sbiadito lavato dalle piogge scolorito dal sole pareva una povera serva misera e sudicia ecco mamma disse la bambina la donna quando fu vicino alla casa lanciò ai due strane un'occhiata cattiva e diffidente ed entrò in casa come se non li avesse nemmeno visti pareva vecchia aveva il volto incavato giallastro duro il viso legnoso dei contadini il signor da prevalla chiamò signora siamo entrati per chiedervi se potete venderci due bicchieri di latte dopo aver posato i suoi secchi la donna tornò ad affacciarsi sulla porta e brontolò non vendo latte è che abbiamo molta sete questa signora è anziana e molto stanca non c'è modo di avere qualcosa da bere la contadina li osservava inquieta e sospettosa alla fine si decise dal momento che siete qui ve lo darò lo stesso disse e scomparva in casa uscì la bambina con due sedie che mise sotto un melo poi venne la madre con due ciotole di latte schiumoso che mise nelle mani dei visitatori e restò in piedi davanti a loro come per sorvegliarli e indovinare le loro intenzioni siete di fechamp chiese sì rispose da preval siamo a fechamp per l'estate poi dopo una pausa aggiunse potreste venderci dei polli tutte le settimane la contadina esitò poi rispose certo se volete ma che volete pollastre o galline pollastre quanto le pagate al mercato la preval non lo sapeva e si voltò verso la sua amica quanto pagate le galline mia cara quelle giovani lei balbettò con gli occhi pieni di lacrime quattro franchi quattro franchi e cinquanta la contadina la guardava di sottecchi stupita poi chiese si sente male questa signora che sta piangendo la preval non sapeva cosa rispondere e balbettò no no ma ha perduto l'orologio per la strada un bell'orologio e le dispiace molto anzi se qualcuno dovesse trovarlo avvisateci la benedicta non rispose nulla pensando che ci fosse sotto qualcosa di losco all'improvviso disse ecco mio marito soltanto lei l'aveva visto entrare perché stava di faccia al cancello da preval salì la signora decadur per poco non cadde nel voltarsi violentemente sulla sedia c'era un uomo a una decina di passi da loro che stava attirando una vacca legata a una corda piegato in due e ansante senza curarsi dei visitatori disse maledizione che bestiaccia e passò oltre andando verso la stalla dove scomparve le lacrime della vecchia signora si erano asciugate di colpo e rimaneva sconvolta incapace di parlare e di pensare suo figlio quello era suo figlio da preval ferito dalla stessa idea chiese con voce turbata è lui benedict la contadina chiese diffidente chi vi ha detto il suo nome il fabbro che sta all'angolo della strada rispose lui poi tutti tacquero con gli occhi fissi sulla porta della stalla era come un buco nero sul muro della costruzione dentro non si vedeva nulla ma si sentivano dei vaghi rumori dei fruscii dei passi smorzati dalla paglia sparsa per terra il contadino ricomparve sulla soglia asciugandosi la fronte e tornò verso la casa passi lenti e lunghi che lo sollevavano ad ogni momento passò ancora davanti agli estranei senza mostrare di accorgersi di loro e disse a sua moglie fammi a prendere una brocca di sidro ho sete ed entrò in casa la contadina andò alla cantina lasciando soli i due parigini fuori di sé la signora di cadur balbettò andiamocene Henry andiamocene la preval la prese per un braccio la sollevò e sostenendola con tutte le sue forze poiché aveva capito che stava per cadere la tracinò via dopo aver gettato cinque franchi su una delle sedie appena ebbero varcato il cancello lei cominciò a singhiozzare scossa dal dolore e balbettando guardate guardate cosa ne avete fatto lui era pallidissimo rispose seccamente ho fatto quel che ho potuto il podere vale 80.000 franchi è un patrimonio che non tutti i figli dei borghesi hanno tornarono indietro piano piano senza aggiungere una parola la donna continuava a piangere le lacrime le uscivano dagli occhi e le colavano sulle guance senza posa alla fine le lacrime cessarono e rientrarono a Fechamp il signor Decadour li aspettava per la cena vedendoli si mise a ridere ed esclamò benissimo mia moglie si è bruscata a un'insolazione ne sono proprio contento davvero credo che sia mattita da un po' di tempo i due non risposero nulla e poiché il marito chiedeva fregandosi le mani almeno avete fatto una bella passeggiata la Preval rispose incantevole mio caro proprio incantevole grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori